Dal 1931 l'associazione Canottieri Lario ha sede nella struttura razionalista di Viale Puecker, progettata ed eseguita dall'ingegnere Gianni Mantero e ben inserita nel Museo Urbano dell'Eclettismo, del Futurismo e del Razionalismo Comasco, tra lo stadio, lo Yacht Club e il Monumento ai Caduti. L'edificio si estende lungo la riva del lago, mostrando immediatamente l'idea alla base del progetto, legare anche idealmente gli atleti alle acque dell'ario. La grande vetrata della sala, dove gli atleti si possono riposare e rilassare, collega infatti l'interno dell'edificio al lago e ai monti che lo circondano. Da qui si nota lo splendido trampolino che si protende sul lago, con i piani di tuffo a tre diverse altezze, in una sorta di trionfo del cemento armato. Di grande interesse sono la sala di addestramento con la vasca e l'imbarcazione fissa, che Mantero studiò in Scandinavia, e l'hangar degli scafi. L'edificio è stato ampliato nel 1983, con la palestra sottostante la piscina, su progetto di Enrico Mantero, figlio di Gianni. Inserita nel percorso razionalistico lariano, la sede della Cannottieri viene visitata ogni anno da centinaia di studenti e appassionati di architettura.